Sta prendendo piede su internet la leggenda della maledizione di Aaron Ramsey, secondo cui ad ogni gol del giocatore dell'Arsenal corrisponde la morte di un personaggio famoso. Si dice che la maledizione di Ramsey abbia preso il bie nel maggio 2011, quando dopo un gol dell'attaccante a morire fu Osama Bin Laden. Il 2 ottobre dello stesso anno il giocatore segnò ancora e il giorno dopo morì Steve Jobs. Due settimane dopo fu la volta di Saddam Hussein. L'11 febbraio 2012 Ramsey fece un gol nella Premier League contro il Sunderland e l'indomani Whitney Houston fu trovata morta in un hotel di Los Angeles. Stessa distanza di un solo giorno tra le marcature fatte dal giocatore e le morti degli attori Paul Walker di Fast & Furious e del compianto Robin Williams. Siamo all'inizio del 2016 ma a quanto pare la maledizione di Ramsey ha già colpito, dato che dopo il suo gol più recente è arrivata la notizia della scomparsa di David Bowie. Su internet sono certi che il povero atleta sia una sorta di porta sfortuna per i VIP, ma c'è da dire che di morti famose ce ne sono quasi ogni giorno e non è difficile trovare un avvenimento che le unisca. Ramsey deve fare il suo mestiere e perciò continuerà a fare gol incurante delle superstizioni.